Quando un pacco H&M arriva a casa, noi che facciamo? Senti! Adesso vi facciamo vedere lo shopping di Cici, eh? Ok, pronta? Vai! Cosa abbiamo scelto? Giubbino per la primavera! Colore che è di gran moda per questa primavera, anche per l'estate, credo. Io adoro la primavera, cioè Niccolò, lei ha uno. Ah, lei adora la primavera. Carino! Misura perfetta, direi. Sì, abbiamo preso 8-10 e va benissimo. You like it? Yes! Good! Vai, next! Vediamo, 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 vediamo. Voilà! Cos'è? Pigiamino per la primavera. Anche questo l'abbiamo preso da pochi giorni, eh? Però l'abbiamo preso da Terra Nova Kids. Nonna c'è. E nonna ha fatto ovviamente il ritocco perché era largo. Continuiamo via! Ta-da! La maglietta. La maglietta del pigiamino. E chi c'è sulla maglietta del pigiamino? Elza con il cavallo. Bellissima! Frozen! Sul acqua! Vero? Sul acqua! Anche a lei è piaciuta molto, Elza, vero? Dimmi, cosa? Dimmi, anche a te il pigiamino. Che gelosona! Pigiamino per cani! Una gelosona. Vai, Cici, continuiamo. E adesso... Questo. Ecco, è bellissimo questo pigiamino, eh? Bellissimo. Contone, bello. E adesso la scelta di Cecilia, eh? Vi facciamo vedere che cosa proprio lei ha voluto fortemente. Sei pronta? Cosa combinano tutte e due? Che combinate tutte e due? Vediamo, che cos'è? Oh, rompi, rompi tutto, vai! Rompiamo, vai! Rompiamo anche la giacca. No! Quella proprio no, eh? Quella di Reni no. Vai! Ma che combinate? Pronta? E lei! Ta-da! Giacca, stile, baseball. No! No! Vieni subito qui! Vieni subito qui! Ehi! Subito qua. A mamma. Brava! Bravissimo sei! Brava! La Monella. Monella? È stata bravissima perché lei ruba le cose e poi me le porta. Bravissima. Tipo bottino di guerra o di caccia. Vediamo questa giacchina. Ma la giacca di cosa? Aspetta, non hai detto tu. Ah! Sta reclamando il biscotto! Cosa? Dimmi! Dici, wait. C'è sto che il wait. Dimmi! Che ti dai? Allora, lei mi ha restituito il pezzo di plastica che aveva fatto. E adesso guarda. I biscotti là su. Dove sono? Dimmi! Fammi vedere. Biscottino! Ti devo dare il biscottino. Biscottino! Guardatela. Ah! Sit! Brava! Sit! Bravissima! No vabbè perché lei ruba le cose raramente ma me le porta e io la premio. È bravissima la mia beba! Allora, questa giacca, Gigi, che giacca è di? Hogwarts! E guardiamo un po' dietro cosa c'è. Tadà! E cosa sono? Spiegaci dai! Allora, where's the Slytherin? Perché qui è Harry Potter mania, eh? Where's the Slytherin? Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. Ma ci sono scritti? Oh no! C'è scritta una formula in latino. E poi abbiamo la casata di Hermione. Traggo! Dorme! Dorme! Nunquam! Titi Landus! Adesso chiamiamo Giulia e la facciamo tradurre. Ok! Ok? I'll go call her. Ok! Bye! Bye! Did you like your shopping? Yes! Anche a lei è piaciuto molto lo shopping.